Il meccanismo di solidarietà ha bisogno ancora delle vostre donazioni. Dal primo al 15 aprile abbiamo consegnato mille pacchi e questo numero non lo riusciamo a reggere se non abbiamo altri aiuti. Dobbiamo riaccendere il meccanismo che si era creato. Ad annunciarlo il sindaco Adamo Coppola nella diretta news di ieri sulla nostra emittente riguardo ai pacchi alimentari che si stanno consegnando ad Agropoli alle famiglie in difficoltà. Vista la carenza di donazioni dopo il periodo pasquale il sindaco lancia un appello alla cittadinanza. L'appello che vi faccio a chi ha già donato e a chi non l'ha ancora fatto è quello di darci un contributo con prodotti alimentari. Senza aiuti non possiamo mantenere questi numeri. Abbiamo bisogno ancora un altro po' del vostro aiuto. Almeno un mese abbiamo bisogno ancora di aiuti alimentari e vi chiedo di darci una mano importante perché da soli non ce la facciamo rispondere alle tante richieste che giornalmente ci vengono fatte. Non vogliamo dire di no a chi ne ha bisogno. Vi do dei numeri. Abbiamo consegnato dal primo al 15 aprile circa mille pacchi. Mille pacchi sono numeri importanti. Quindi stiamo veramente servendo migliaia di persone in città. E questo numero che abbiamo raggiunto non lo riusciamo a reggere se non abbiamo ancora degli aiuti. Noi come comune stiamo trovando il modo di finanziare anche direttamente gli acquisti. Però per reggere dobbiamo riaccedere il meccanismo di solidarietà che tanto aveva funzionato nei giorni precedenti. Quindi l'appello che vi faccio a chi è già impegnato e a chi non lo ha fatto, di darci un contributo in termini di prodotti alimentari. Per questo numero importante che abbiamo raggiunto, ripeto, non riusciamo a mantenerlo. Quindi dobbiamo a questo punto dire di no facendo una valutazione insomma più stringente rispetto a chi l'ha fatto alimentare. Mi dispiacerebbe fare questo passo indietro e quindi insomma lo faccio dal pulpito di Cilento Channel ma lo farò anche dalle pagine Facebook del comune e quant'altro per dire che abbiamo bisogno ancora un po' del vostro aiuto. Io mi auguro insomma di mantenere questo ritmo per almeno per altri 15 giorni e arrivare certamente fino al 3 maggio che magari è una prima data in cui qualcosa si aprirà. Però credo che almeno un altro mesetto, quindi 15 giorni e ora ad aprire, anche 15 giorni di maggio, abbiamo ancora bisogno di un vostro aiuto. Dobbiamo registrare un altro po' e abbiamo bisogno di un altro po' di materiale, abbiamo bisogno di tutto. Nuovamente abbiamo bisogno di pasta, abbiamo bisogno di pevare, abbiamo bisogno di zucchero, abbiamo bisogno di tutti i prodotti alimentari per comporre i pacchi. Abbiamo fatto un buon lavoro fino a oggi però vi chiedo veramente di darci una mano importante. Sapete che noi abbiamo messo per poter dare il proprio contributo dopo un telefono di istruzione, quello di Info Covid, però dateci una mano perché da soli non riusciamo a mantenere la richiesta. In questi giorni reggiamo ancora perché dovete considerare che in città sono arrivati sia i supporti dei nostri pacchi ma anche il supporto del bonus spesa. Quindi diciamo in questi giorni c'è un sollievo però io ho visto già, come dire, pensando a che succede quando il bonus spesa tenderà a terminare e magari le richieste potrebbero essere prestanti come quelle dei giorni scorsi, potremo trovare difficoltà nella difficoltà di dover dire no a cittadini di difficoltà. Quindi un altro piccolo sforzo da parte di tutto, dateci una mano, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie a tutti.